Buongiorno popolo rossonero, buongiorno popolo del bandito. Tra poco parla il mister, quindi sentiremo con attenzione le sue parole e soprattutto come intenderà affrontare la formazione di domani. Mentre a casa Milan è avvolta in una nube di mistero, alcuni pensano, mi auguro, spero che sia questa la versione giusta, che ci sia in serbo una grandissima sorpresa e noi speriamo che sia una sorpresa piacevole e positiva per il mondo Milan. Dall'altra parte il silenzio assordante sulla situazione di cui ho parlato stamattina, il meno 10 al pagamento del debito con Octree. Adesso parliamo un po' di tutto, rispondendo a qualche commento ovviamente dei prescritti cartonati che ogni tanto bisogna metterli a posto e mi raccomando un like al video se anche voi sperate che veramente in questo silenzio assordante sull'allenatore ci sia un nome importante. Io me ne faccio due o tre oggi, che sono quelli che mi renderebbero sicuro e tranquillo per la prossima stagione. Tanto oramai i nomi li fanno tutti. Io dico quelli che piacerebbero a me, poi voi nei commenti, tanto oramai è diventato un giochetto, stiamo solo aspettando e allora io vi dico quelli che vorrei io e voi nei commenti mi dite quelli che vorreste voi ovviamente. Iscrivetevi perché lo vedete che c'è, titolavo stamattina, un silenzio assordante e allora è giusto parlarne perché quando c'è un silenzio assordante il motivo vuol dire che dietro c'è la voglia di non far sapere, c'è la voglia di coprire, c'è la voglia di nascondere e quindi bisogna parlarne perché è un momento decisivo per il calcio italiano, soprattutto per una Serie A che deve avere parità di condizioni e non favoritismi verso una squadra, un personaggio, un dirigente con coperture varie della Federazione Italiana Gioco Calcio, dell'UEFA, della FIFA, siamo stanchi, parità per tutti di condizioni e allora il calcio diventa e può tornare ad essere credibile, ovviamente la campanella per le notifiche, da dove partiamo? Partiamo rispondendo e chiudiamo col Milan, partiamo rispondendo ai cartonati prescritti non bancabili, allora perché ne parlo ragazzi? Oramai dovreste saperlo, se venite nei miei video a vedere, scusate, o siete perversi, andate a sentire Pasquale Guarro che vi dice che tutto è appustissimo, che tutto è meraviglioso, andate a sentire Gianluca Rossi che mi dice che è tutto a posto, è tutto tranquillo, andate lì così vi rassicurate, state sereni, state tranquilli, non venite nei miei video perché sapete che questa è la cosa principale, la metto anche davanti al nuovo allenatore del Milan, alla nuova campagna acquisti del Milan, alla nuova dirigenza del Milan, io metto davanti questo perché è un'evidente stortura del calcio italiano, io non so come farvelo a spiegare, siete duri di comprendonio, cambiate canale, andate sul canale dei vostri che vi dirà che è tutto meravigliosamente bello sul mondo di Narnia, non venite a rompere le scatole a noi, anche perché poi giustamente chi segue il Milan e mi segue perché segue il Milan, si incazza se trova tutti i commenti vostri che venite qua a dire le cazzate, semplicemente a perculare, sei bianco, sei giallo, i capelli e qua, ma su, fatevi una vita, fatevi una vita, tanti di voi vorrebbero arrivare a 54 anni come ci sono arrivato io, ma ve lo assicuro e non credo sia così sicuro e certo che ci arriviate a 54 anni, ci arriverete sicuramente, ci mancherebbe altro, figurarsi, voi avete seguito trionfalmente la scienza quindi ci arriverete sicuramente e grandissima buona salute, ma nelle mie, cioè capite, io mi ritengo ancora un 54 anni che va, capito, bello in forma, quindi ragazzi, cambiate canale, non venite insolente, o volete un rapporto, confutate quello che dico io, ma con dei numeri, se no cambiate veramente canale, perché se no diventate pesanti, sembra che facciate i personaggi su ciò che dico io, io insisto, insisto e quindi oltre a parlare del mio Milan, quando ci sono le notizie, non a dire cazzate così a vanvera, mi occupo di una situazione di cui si sta occupando anche il governo e quindi penso che se fosse stata una cosa così che non esiste non se ne starebbe occupando il governo, non ci sarebbe la federazione in grave apprensione per questa agenzia governativa che deve andare a verificare i conti della serie A, non ci sarebbe tutto questo silenzio attorno a una vicenda che, io ricordo il bonifico minuto per minuto, quando c'erano dei problemi, quando c'era da imborsare Elliot, da Yongon Lee, io ricordo il bonifico minuto per minuto, arriva, non arriva, arriverà, non arriverà, qui c'è un silenzio che è molto, 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 molto sospetto, perché ripeto mancano dieci giorni. Cosa farà Oktri? Oktri subentrerà sapendo di avere dei conti? Oggi leggevo un articolo così, tanto per chiarire, sapete che è stata stilata una classifica dei club che hanno più valore, delle italiane la Juve è quella che ha più valore, poi c'è il Milan e poi c'è l'Inter, perché ovviamente l'Inter è sempre la ruota di scorta, è sempre quella dietro. Terza, come quando avete vinto lo scudetto di cartone però, terzi anche lì, voi siete sempre terzi, siete sempre dietro, Juve-Mina, Mila-Juve e poi arrivate voi, gli sfigati, arrivate dietro. E è sempre così, è la storia, è sempre così sarà. Il vostro valore, se voi andate a controllare questa cosa internazionale fatta da gente che ne sa, non da influencer nero-azzurri, il vostro valore equivale, anzi è inferiore ai debiti. E' questo che si chiama patrimonio netto negativo, lo capite? Che se c'è fosse qualcuno disposto a comprarvi, e sfido quel pazzo che esista in questo momento a comprarvi, i debiti da ripagare sono superiori al valore di mercato, si chiama patrimonio netto negativo. Ora Oktri cosa farà? Prenderà, si assumerà il 99% delle azioni di controllo dell'Inter, il 68% di Green Tower, mai presentato un bilancio, quindi società tutta da verificare, o il 31% di Lion Rock, Alecaima, anche qui tutto da verificare, le ultime notizie che sono uscite su questa società, Alecaima, erano che stava per fallire, poi non abbiamo saputo più niente, perché sembra quasi, non sembra, è così, che i nostri media parlino dell'Inter solo per dirne bene. Ad esempio oggi in una situazione in cui c'è una insicurezza economica totale, perché tra dieci giorni c'è da ripagare un debito e non si sa nulla, non si sa nulla, c'è il silenzio assoluto, però ci fanno sapere giustamente che sono pronti a ricoprire di soldi il signor Barella e per rinnovare il contratto, che arriverà ovviamente, arriverà. Ma questo rinnovo di contratto di Barella da chi è autorizzato? Da Zhang, che quindi avrà i soldi per ripagare il debito con Oc3, da Oc3, che quindi ha già deciso di intervenire e di prendere l'Inter, o da Pincopallino, da chi? Insomma fateci sapere, fateci sapere, perché tutto il calcio italiano è interessato a questa situazione. Vedete come anche nel mondo romano, a proposito tanti complimenti a Gianluca Mancini, il giocatore simpaticissimo, a volte il karma è molto più potente di tutti i nostri discorsi, di tutti i nostri ragionamenti, arriva il karma e ti sistema. Gianluca Mancini è uno dei giocatori più scorretti secondo me che ci siano in tutta la Serie A, anzi forse è il più scorretto e mi dispiace per De Rossi, mi dispiace per i tifosi della Roma, ma che sia toccato proprio a Gianluca Mancini sancire l'eliminazione dalla Europa League, è semplicemente il karma che ogni tanto decide di ripristinare un po' di giustizia. Quindi ha messo a posto anche Mancini, ha messo a posto la situazione OCTRI, mi ricordo, meno 10 e ancora nessuno sa nulla, sappiamo solo che sono pieni di soldi per rinnovare il contratto a Barella all'autorio Martinez, molto bene così. Chiudiamo col nostro Milan, ovviamente vi devo dire i nomi degli allenatori che mi renderebbero felice e tranquillo per la prossima stagione, cioè mi metterebbero, come dire, verve per la prossima stagione e qui voglio che intervenite voi nei commenti per dirmi, diciamo i vostri tre nomi, perché uno è impossibile, i vostri tre nomi. Così facciamo un attimo un censimento dei gusti della panchina di chi segue Stefano Bandito Rossonero. Mi raccomando, esprimetevi dei commenti, io vi dico i miei. Conte ovviamente, perché unirebbe la tifoseria e renderebbe l'ambiente più tranquillo e questo sarebbe già un buon punto di partenza, direi anzi un ottimo punto di partenza, ridarebbe entusiasmo. Gasperini, perché secondo me pur essendo la persona più antipatica e più, insomma, ne ne ho dette tante, non vi potete neanche immaginare quante, però bisogna dire la verità, è bravissimo e non buca una stagione, non buca una stagione. Quindi Conte, Gasperini è l'unico straniero che prenderei in considerazione, l'unico, sarà un sogno? Ma questo è un discorso un po' da sogni, perché nessuno di noi sa chi, come, quando, quanto è disposto a spendere la società, non lo sa nessuno, ognuno dice le sue e quindi facciamolo anche noi. Conte, Gasperini e l'unico straniero è Jurgen Klopp. Ecco, questi sarebbero i tre allenatori che mi darebbero entusiasmo per quest'estate, mi darebbero positività, unirebbero il mondo rosso-nero e creerebbero, insomma, partiremmo già con il vento in poppa. Poi chiaramente ci sarebbe da pensare agli acquisti, però con questi tre io, devo dire la verità, mi sentirei in una botte di ferro. Ditemi cosa ne pensate nei commenti e un saluto a tutti, Forza Milan, adesso andiamo a sentire le parole del mister, poi magari stasera ne discutiamo insieme e Forza Milan ovviamente sempre, comunque e ricordo meno 10.